Il nuovo gasdotto del tratto sul Monafoligno è totalmente inutile. La Rera, l'autorità per l'energia la stessa che fissa i prezzi delle bollette, ha chiesto una consultazione pubblica sull'intera opera, la linea adriatica, che nel frattempo però il governo ha già approvato. Quindi a scatola chiusa, fidandosi dei dati forniti dal proponente, da SNAM, come chiedere all'osse se il vino è buono. Il coordinamento Noab Gas passa al setaccio alcuni documenti di consultazione della SNAM e rimarca che le grandi opere graveranno sulle tasche degli italiani e resteranno inutilizzate per almeno un terzo della loro capacità. Il costo dell'opera è 2,4 miliardi, peraltro lievitato dalle ultime estime di qualche anno fa. Al 2030 SNAM intende realizzare opere per una capacità di 100 miliardi di metri cubi. quando gli italiani al 2030 ne consumeranno 60 miliardi, secondo la stessa ammissione di SNAM, nello stesso documento. E l'Italia ha esportato fino a ottobre del 2022 3 miliardi e 400 milioni di metri cubi di gas. Le infrastrutture tecniche che ha la SNAM sono più che sufficienti a soddisfare i fabbisogni. Se si avesse la materia prima, dall'origine, ma dall'origine significa contrattare con i mercati. Per esempio dall'Olanda e dall'anno invece nel 2002 erano arrivati da 8 miliardi, si era scesa a 2 miliardi. Ora invece è risalito un po' nell'anno scorso. Adesso anche l'Algeria ha dato qualcosa in più. Quindi è solo una questione di mercato. Il metanodotto dovrebbe essere tra l'altro costruito in una zona che dà sempre alle sue criticità naturali. Di quale strategia si parla rincara la dose De Sanctis che entrerebbe in funzione nel 2028. Tra 5 anni le previsioni dovrebbero confermare il dato attuale del calo dell'utilizzo del gas, grazie anche allo sviluppo delle fonti alternative. A oggi produciamo tantissima, una buona parte dell'energia con fonti rinnovabili, idroelettrico, eolico, solare. Però attualmente sono fermi al Ministero dell'Ambiente progetti già depositati dalle aziende, quindi realizzabili, per decine di gigawatt di potenza da installare. Quindi vuol dire che le rinnovabili già sono oggi una realtà e il governo invece di sbloccare opere fossili deve sbloccare le rinnovabili.